Una delle novità tanto attese per questo 2020 di Kytec è il restyling upgrade del Model 1, il Model 1 versione 2, al quale hanno apportato due upgrade, uno per look keeper, migliorandolo per aumentare la tenuta del trailer durante i lanci e durante la pesca, e l'upgrade per quanto riguarda la finitura del tungsteno della G-GAD. Due novità per quanto riguarda questo 2020 di Kytec per la categoria Soft Bait, il Custom Flex Chunk realizzato in due misure, medium e large, 3 pollici e 4 pollici, e il Flapper Grub da 4 pollici. Il Flex Chunk è realizzato con la classica mescola di Kytec, realizzata con un'ottima presenza di sale. È un'esca che nasce prettamente per la pesca a jig come trailer. La particolarità sono i due flap a coda di coniglio, il classico Chunk, il quale ha una mobilità estremamente alta. Il Flapper Grub da 4 pollici è il classico Grub single tail, ma questo Grub ha la particolarità di avere la sezione del corpo triangolare. È una coda molto ampia, un design che Kytec sta adottando in ogni sua nuova esca. Il particolare design dell'appendice permette e conferisce all'esca un naturale movimento sia durante la discesa che durante il recupero dell'esca stessa. Un'esca che durante i test si è rivelata molto interessante sia con le tecniche Jighead che con le tecniche Texas Rig.